Un quintale e mezzo di materiale esplosivo artigianale nascosto in casa e all'interno di una cantina. E' la scoperta fatta dagli agenti del commissariato di polizia di Barletta intervenuti assieme agli uomini del nucleo artificieri della squadra mobile di Bari presso un'abitazione alla periferia della città della disfida. L'operazione è stata eseguita a seguito di alcune segnalazioni giunte alla polizia e ad un'intensa attività investigativa che ha condotto gli agenti sino ad una cantina utilizzata come deposito da un trentasettenne del posto. Scattata la perquisizione i poliziotti hanno trovato all'interno tre cartoni contenenti esplosivi di manifattura artigianale ma il sospetto che l'uomo potesse nascondere altro ha fatto sì che i controlli si estendessero anche al suo appartamento ed i risultati non si sono fatti attendere. In casa è stato infatti rinvenuto un ulteriore scatolone contenente altri botti pericolosi illegali. L'operazione si è conclusa con il sequestro complessivo di circa 150 kg di esplosivo. Dopo gli accertamenti di rito per l'uomo si sono aperte le porte del carcere di Foggia e accusato di detenzione illecita di ordini esplosivi di natura artigianale e omessa denuncia di materie esplodenti.